Gianluca Calassi, dieci giorni intensi, emozionanti, prima l'ingresso nei dodici che andranno a giocare le Olimpiadi a Tokyo e poi queste due partite che ti hanno visto titolare dall'inizio della gara. Che sensazioni hai adesso? Sì, sono stati dieci bei giorni, sono stato felicissimo di essere entrato nei dodici, questo per me è veramente un sogno che si realizza, poter partecipare all'Olimpiadi è una cosa che probabilmente a ogni sportivo del nostro sport e anche di molti altri sogna, quindi per questo sono felicissimo. Questi due amichevoli secondo me sono state ottime perché l'Argentina è una buonissima squadra e secondo me ci serviva qualche partita prima dell'inizio delle Olimpiadi per vedere a che punto eravamo con il nostro gioco e vedere a che livello potevamo esprimere. Quando hai capito che eri in corsa per una maglia così importante? Sinceramente non l'ho capito, quando sono uscito dalla bolla e mi sono unito al gruppo con Cavalese sapevo che se fossi riuscito a star bene e non avere più problemi alla schiena mi sarei giocato le mie possibilità, le mie chance e così per fortuna è stato e quindi dal collegiale di Cavalese fino a quello dell'Acqua Cetosa io ci continuavo a credere, continuavo ad allenarmi e spingere per fare in modo che Kiko mi scegliesse e così è stato e non posso essere che crede più. Kiko te l'ha detto quando? Da solo? Nel gruppo quando hai scelto i dodici? Non so che a parte. No, l'abbiamo saputo dagli esclusi e quindi parlando tra gli altri ragazzi così l'abbiamo saputo e il giorno seguente abbiamo visto i dodici pubblici e tutto buio.